Ciao ragazze! Con questo video vi mostro come ho realizzato il mio calendario pop-up che sembra un mini album. Questo progetto rappresenta il mio primo lavoro dell'anno ed esattamente di gennaio 2020 che ho preparato con la nuova collezione Aquarius. È un progetto divertente molto semplice da realizzare se seguirete il video potrete facilmente crearlo anche voi e utilizzarlo per molti altri scopi. Io ho ritagliato quattro pattern che misurano 14 cm per 14, ho poi creato dei rettangoli bianchi della misura di 8 cm di altezza per 14 e li ho fustellati con la fustella a forma di onda. Per creare poi tridimensionalità al paesaggio ho ritagliato altri quattro rettangoli più piccoli che misurano 6 cm per 6 cm. A questa misura aggiungete un centimetro per lato per applicare il biadesivo spessorato. Grazie per la visione! Dopo aver incollato tutte le parti, cordonate le quattro pagine esattamente a metà e piegatele leggermente. ho poi stampato su un cartoncino ruvido f4 da 220 grammi quattro fogli in cui ho stampato i 12 mesi dell'anno dividendoli in tre per pagina. ho poi preso le misure e ho ritagliato i fogli lasciando una finestra centrale che misura 12 cm per 9 cm. facendo attenzione a lasciare un abbondaggio laterale per permettere di incollare successivamente tra di loro le varie pagine. montate il calendario aiutandovi con le immagini del video. montate il calendario aiutandovi con le immagini del video. montate il calendario aiutandovi con le immagini del video. montate il bacino aiutandovi con le immagini del video. Grazie a tutti. 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 a tutti.